Conosciamo bene l'importanza dei fondi europei strutturali, spesso però forse c'è la percezione che ci sia una difficoltà poter accedere a questi fondi, anche questo è un po' il senso di questa giornata. Sì, il nostro tentativo è quello di cercare di dare un supporto ai nostri colleghi, alle aziende in cui lavorano, ma anche all'Agenzia per la coesione che è incaricata di progettare e di programmare l'utilizzo dei fondi per sviluppare dei bandi più facilmente accessibili. Abbiamo un filone di bandi che puntano allo sviluppo infrastrutturale del meridione in particolare, ma noi crediamo anche che nell'ambito dei servizi sia importante effettuare un potenziamento di un tessuto imprenditoriale che è molto vivace, ma alle volte poco coordinato. Quindi la nostra idea è quella di far ruotare intorno alla figura del destination management un'organizzazione che metta insieme gli enti pubblici e le strutture dedicate alla programmazione territoriale con le aziende. E quindi attraverso bandi specializzati che consentano di sviluppare nuovi servizi e soprattutto di convogliare i flussi turistici dando delle risposte innovative, pensiamo che appunto con anche il nostro contributo si possano intercettare quei flussi in grande crescita, flussi di turismo internazionale che sono sempre più interessati al nostro Paese. Grazie. Grazie.